Buongiorno e ben Ben ritrovati dal touch per la rassegna stampa, la prima del Roma, parole parole parole, il riferimento al nuovo DPCM da parte del Roma, Blef di Conte, dal 4 maggio non cambia quasi nulla, possibili solo attività motorie lontano da casa. Dal primo giugno potranno riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici in Campania al Via Oggi le consegne di cibo e bevande a domicilio, part time per librerie e cartolerie. Pagine interne, Campania da oggi si riparte, passeggiate consentite al mattino e al tramonto, obbligo di mascherina anche per i bimbi. Riaprono bar e pizzerie ma funzionano solo le consegne a casa, librerie e cartolerie aperte fino alle 14. Nel dettaglio mascherine gratis con il Roma, Caserta, omaggio ai nostri lettori in tutta la provincia di terra di lavoro. Caldoro, la regione autorizzi subito il take away, costi eccessivi, via libera al cibo a domicilio è insufficiente. Cesaro di Forza Italia, corsa non compatibile con l'uso della protezione, gioching con il viso coperto è una cosa assurda. Bloccati, 900 milioni di euro, appello a Provenzano, migliore risorse necessarie per affrontare questa emergenza. Fase 2, solo un blef cambia poco, falsa ripartenza, l'unico annuncio serio, il rinnovo dei 600 euro per gli autonomi. Dal 4 maggio, visite ai parenti, il 18 aprono i negozi e i musei. Dal 1 giugno, bar e ristoranti. Confindustria, manca metodo, vogliamo meno slogan. Carlo Bonomi, Bacchetta, il governo, sono 5 settimane che chiedo risposte che non arrivano. Non si salva il paese, chiudendo le imprese. Cala intanto il numero dei decessi, tornano ad aumentare i positivi, si aggrava la situazione a Milano e in Lombardia. È la cifra più bassa dal 15 marzo, i guariti sotto quota 2.000, sempre più tamponi. Il virologo Silvestri, al momento non ci sono persone che si riammalano con un virus diverso. Malati dagli altri ospedali al Trivulzio, sentiti i medici del Pio albergo, da oggi al via i test sierologici sul personale della struttura. E il Comitato delle Vittime lancia una campagna social, subito la verità. Scendono gli infetti in 24 ore per il dato campano, solo 18, muore un 97enne di Pozzuoli. Continua l'aumento dei guariti, adesso sono 1.062. Ieri 14 in meno rispetto a sabato, ma sul numero inferiore di tamponi il rapporto è di 1 a 83. Positivo, scappa dalla Lombardia, preso a Napoli. L'uomo era ricercato dal 3 aprile, è stato condotto con un amico in una struttura Covid. Alla Polfer ha raccontato che era costretto a vivere in strada e perciò aveva deciso di tornare al sud. In classe a settembre, come non si sa, i presidi ok alle decisioni del Governo, ma servono interventi. Mattarella agli studenti, il futuro dipende da voi. Il nodo dell'apertura dei centri per i bimbi, congeri e bonus per altri 5 mesi. Salva stati senza condizioni, sì di Fico, Conte conferma, deciderà il Parlamento, Gentiloni il Fondo UE subito. Sul MES Meloni accaccia dei voti grillini, perché non fate votare la base, la leader Fratelli d'Italia, 20 deputati contro i vertici. E la crisi che si aggrava, vietato licenziare, sospensione fino all'estate, altre accuse al Governo finanziano la ripresa con i soldi del Sud. Le partite IVA si ribellano, solo annunci, così moriremo di fame, artigiani e commercianti, rischiamo di non mettere il piatto a tavola, buffagni, autonomi, garantire i meno ricchi. Covid non si vince solo con le cure, il prof, inutile avere reparti di emergenza senza medici preparati. Giuseppe Servillo, primario del centro di rianimazione del secondo policlinico, distanza sociale fondamentale. Famiglia in crisi dopo la quarantena, c'è l'aiuto di Nola, AMF, incomprensioni e incompatibilità caratteriali vengono amplificate, bisogna confrontarsi. La stagione alle porte, i balneari, siamo ancora in alto mare. Da oggi si inizia con gli allestimenti dei Lidi, il commento di Morra, tutto è incerto ma non aumenteremo i prezzi. Situazione in stallo, gestori potrebbero dare forfè, il sindacato giocondo teme e i costi siano troppo elevati rispetto agli incassi stagionali. La Campania si salva col turismo locale e per la demoscopica potrebbe essere la chiave di volta per non sprofondare nella crisi dovuta al coronavirus. Pizza Unesco, una moneta celebra il piatto più famoso del mondo, il conio avrà valore di 5 euro e la risposta a chi in questi giorni offende Napoli. E da questa mattina il via alle domande per la regione bonus destinato alle famiglie con figli di età inferiore ai 15 anni e un ise massimo di 35 mila euro. Pagine nazionali con Repubblica, sfida al virus, l'Italia riapre, i vescovi contro il governo. Si potrà andare dai parenti ma solo con la mascherina. Il 18 maggio via ai negozi, dal primo giugno bar e ristoranti ed è l'ite nel Consiglio dei Ministri. La Renziana Bellanova a Conte serviva più coraggio, speranza chiede cautela. E la CEI definisce inaccettabile il no alle messe, nega la libertà di culto. L'Italia che riparte mascherine a prezzo fisso, 50 centesimi, si potrà andare dai parenti col certificato. I vari dettagli dal 4 maggio, nessun obbligo fino ai 6 anni, le protezioni per chi passeggia all'aperto, gli spostamenti, le attività motori, gli sport, il take away e i parchi. Poi in data 18 la riapertura dei negozi con un debutto rinviato di due settimane quindi. E poi dal primo giugno bar e ristoranti, parrucchieri ed estetisti, obbligo di appuntamento per barbieri e centro massaggi. Il governo si spacca e sul no alle messe e scontro con la Chiesa. La CEI è durissima, violata la libertà di culto, ma Palazzo Chigi ha seguito lo stop degli scienziati. Nel fronte rigorista Speranza e Franceschini a volere più aperture Gualtieri e Patuanelli, quindi anche il ministro dell'economia. Bellanova, poco coraggio, se non riaprono i negozi le aziende restano a rischio. Si doveva osare di più, visto che dobbiamo convivere col virus, la strada non è chiudere. Assurdo no alle messe. Brusaferro, riapriamo e se i contagi salgono pronti a nuovi stop. Tutti a scuola a settembre, è ancora troppo presto per dirlo, le aule rappresentano un rischio per la circolazione del virus. Ad oggi non ci sono le condizioni per aprire i centri estivi per gli studenti, ci vuole cautela, vediamo come evolvono i dati. La seconda odata dell'epidemia in autunno, in teoria potremmo averla tra un mese se prendiamo sotto gamba le misure. Sui dati, in un giorno, 260 morti, mai così pochi dal 15 marzo. L'esame di maturità sarà in classe, ma alla nuova scuola servono più prof. La ministra Azzolina, saremo rapidi, banchi singoli in cerchio per garantire le distanze e mascherine solo per i maestri. Lezione anche in giardino e al museo. 5 Stelle, su Rosso la videochiamata non funziona, i parlamentari del movimento usano altre app, la piattaforma ormai è un orpello inutile. Delusione tra deputati e senatori che continuano a versare 300 euro al mese per sviluppare la piattaforma creata da Gianroberto Casaleggio e dal figlio Davide. Bonomi e Messina, scontro sui social bond, Confindustria e banche, a confronto e l'intervista alla consulente di Conte, Mazzucato, ora uno Stato imprenditore che decida dove investire. L'economista, imprese, niente aiuti a pioggia, i fondi solo se prendono impegni per il futuro. Il governo spinga l'economia verde, cerchi di ripianare il divario digitale tra nord e sud. È il momento di una politica industriale decisa per cambiare direzione, le aziende da sole non lo fanno. Pagine regionali da Repubblica, Repubblica Napoli, pizzerie, bar e mini partenza, riapre il 30% dei locali. Ma è corsa per prenotazioni online, mobilitati riders e dipendenti, Confcommercio a De Luca, norme troppo restrittive. Da oggi possibili anche giochi e passeggiate con limiti di orari e tragitti. I runner con le mascherine si respira male. Terremoto nei campi Flegrei, sciame sismico con 34 episodi. Dalle 4 nella notte tra sabato e domenica, gente in strada a Pozzuoli. Pizze a domicilio, parte la corsa alle prenotazioni, ma per Confcommercio oggi aprono solo il 30% dei ristoranti. Mobilitati riders e dipendenti per le consegne, molte pasticcerie e bar restano chiusi verso la fase 2. De Luca, mascherine ai bimbi, positivi al minimo storico. 18, semaforo verde per la ripresa della cantieristica nautica. I runner con la mascherina, sarà difficile respirare bene. Torna la corsa, ma con limiti di orari e tragitto. La protezione obbligatoria scatena polemiche, salda vinci. Così rinuncio, Cesaro di Forza Italia, questa apertura della regione è un grande blef. De Mase, nuovi medici di famiglia lasciati soli contro la pandemia. L'intervista al medico non ci hanno dato le mascherine, le nostre richieste di tamponi aspettano per settimane. Una deputata ha atteso il test per 24 giorni. Notte di paura nei campi Flegrei, quattro scosse, gente in strada a Pozzuoli. Ciamme sismico con 34 episodi, ma solo alcuni avvertiti dalla popolazione. La direttrice dell'osservatorio Vesuviano. Monitoriamo gli eventi legati al bradicismo, ma non c'è un trend preoccupante. Il Covid amplifica le reazioni emotive. Tribunale, oggi termoscanner, ipotesi udienze a porte chiuse. Quello che può avvenire al centro direzionale. Memorial Web per Masullo, un maestro, la commemorazione online dal ministro Manfredi all'ex Assessore Daniele. Un ricordo pubblico appena finirà l'emergenza. Le otto regole per la ripresa della Aurentis avvisa la FIGC. In chiave sportiva, ok del governo, allenamenti per le squadre a partire dal 18 maggio. Ma il Presidente chiede rigore nel protocollo sanitario definito dal ministro Spadafora ancora privo di determinate condizioni. Già dal 4 maggio, sedute individuali, le maggiori obiezioni della società azzurra riguardano tamponi, responsabilità legale e il ritiro permanente. Pagine nazionali con il mattino. La fase 2, più divieti che permessi. Per Conte rispettare la distanza sociale resta l'autocertificazione, sì alle visite ai parenti ma con il volto protetto. Bar, ristoranti e parrucchieri, riapertura a giugno. Per il calcio, dal 18, gli allenamenti, messe vietate e c'è l'ira dei vescovi. Rimane l'autocertificazione dai parenti con mascherina, non ci si sposta tra regioni. Il nuovo DPCM, Conte avverte, è obbligatorio rispettare la distanza o i contagi risaliranno. I malumori dei Renziani, troppa prudenza, tensione con il PD e il Presidente del Consiglio. Mini funerali e niente messe, la CEI all'attacco del Governo. I vescovi contestano le disposizioni, così si viola la libertà di culto. Il provvedimento sarà modificato. Riaprono i parchi da giugno, ristoranti, bar e parrucchieri. Dal 4 ripartono manifatture e cantieri, musei e mostre dal 18, trasporti da ingressi scaglionati e resta il divieto sulle seconde case. Consentiti i funerali manuale messe, sia la ristorazione da asporto per chi ha febbre a 37 e 5, non può uscire. Campania, mini apertura, ecco cosa cambia da oggi, da stamani. In vigore l'ordinanza 39 e la corsa, dalle 6 e 30 alle 8 e 30 e dalle 19 alle 22. Pizza a casa con i rider dalle 16 alle 23 e la mattina può arrivare anche il caffè a casa. Non vanifichiamo tutti i sacrifici, basta poco per far risalire i contagi. Lo scienziato Paolo Ascerto nel tragitto Casa Pascale vedo troppa gente in giro che non rispetta le distanze. Abbiamo curato in rianimazione anche un ragazzo di 23 anni, nessuno può considerarsi al sicuro. La nautica scalda i motori, le barche luoghi sicuri. Il settore punta a recuperare in parte il 35% perduto durante i due mesi di fermo. A febbraio il Natic Sound ha garantito gli ordini, sebbene ridotti dalle disdette. Aerospazio, c'è chi non si è fermato. Boeing ha confermato le commesse. Nessuna giornata di cassa integrazione. Alla vete di no, l'Ama si è detto stop a 12 stagisti. Sì, abbiamo ottenuto dalla Prefettura il via libera con prescrizione di sicurezza per i lavoratori. Lombardia pericolosa perché resta la stretta. Ed è scontro con i sindaci. Dietro la prudenza del Governo, la curva in risalita dei contagi di Milano. Gli amministratori, noi non riusciremo a controllare parchi e mezzi. Anche dai governatori del Sud, lo stop ha gli spostamenti. La nostra sanità non può gestire nuove ondate. I prefetti dovranno applicare le disposizioni sui territori ed è confusione sul servizio a domicilio dei bar. Turismo, subito un piano, sbaglia chi dice no al MES. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, settore decisivo, serve fondo ad hoc per superare l'emergenza. Bene la UE, ma se il Recovery Fund arriverà a fine anno, sarà troppo tardi. L'elemosiniere del Papa, non tutti i cardinali donano. Forse una parte di 5 Stelle vuole uscire dall'Europa. I partiti sovranisti hanno danneggiato la UE in Italia. È riferimento alle parole di Berlusconi. Per quanto riguarda la curiosità, ma la coletta chiesta da Francesco per l'emergenza coronavirus sta dando comunque buoni frutti. Sussidi, regole semplificate per accelerare i pagamenti. La cassa in deroga sarà autorizzata dall'Inps senza il passaggio delle regioni. I comuni saranno centrali per erogare i boni spesa e il reddito d'emergenza. Riferimenti ai vari capoluoghi di provincia. Da Napoli, metro, ripartenza nel caos. Non più di 80 viaggiatori su ogni treno. Appena 8 e mezzo in servizio. Attese lunghissime. Al massimo 20 passeggeri su ogni bus. La D di ANM Pascale avverte. Così non possiamo reggere. Il tema terremoto, tremano i campi flegrei, fuga dalla quarantena, avvertito anche a Napoli. Bianco, normale. Attività. Su ogni treno 80 persone, metro a rischio implosione. Se si confermerà la distanza minima di un metro, sui convogli ci sarà spazio per pochi viaggiatori. In difficoltà con gli spazi anche le funicolari. E i bus con soli 20 passeggeri saranno inutili. Cantieri, prime riaperture, traffico deviato a via Marina. Chi arriva in città dovrà percorrere un tratto di viaggio anturco e rientrare. Senso alternato e lo stop alla sosta per il restyling di corso Vittorio Emanuele. Eav, l'allarme di De Gregorio. Dostanziamenti impossibili, poche corse, molti passeggeri, tra le ipotesi di ussasori sui sedili e le prenotazioni dei biglietti. Non siamo come i bar riaprite i nostri chioschi, Mergellina, Appello degli ex Acqua Frescai. Ripartenza dal 4 maggio o chiuderemo. Sono appena 18 riuniti in un comitato, una sola richiesta, essere ascoltati. Obbligo sanificazioni, giungla delle tariffe, servono prezzi fissi, in media 1,50 euro per metro quadro, ma i costi possono lievitare di molto. Confesercenti avverte, Stato o Regione devono intervenire per regolamentare. Inoltre, l'appello, cibo, assistenza e farmaci, ma ora servono le docce. I volontari, i poveri devono lavarsi, nessuno sa dirci dove possono farlo. L'Unitalsi, la pandemia non ci ferma, gli ammalati vengono prima di tutto. Inoltre, mascherine e apponticelli sono spuntati i bagarini. La denuncia del consigliere Zimbaldi, c'è chi si impossessa dei dispositivi gratis, c'è chi ritira i plichi per i condomini, il fenomeno negli stabili popolari. La Guardia Costiera trasporta 90.000 dispositivi sulle isole, le mascherine della Regione consegnate alla Protezione Civile di Ischia, Capri e Procida. La Miraio Vella, in questi giorni d'emergenza abbiamo garantito la sicurezza dei trasporti in mare. Da Milano a Napoli in fuga sul treno positivo al Covid. Pregiudicato via dall'ospedale il 2 aprile, viaggiava senza biglietto con un amico. I due sono ora ricoverati a Villa Betania in attesa del risponso dei tamponi. Sul tema boss scarcerati, la fondo di Maresca, cortocircuito e confusione del DAP. Dopo il caso di Pasquale Zagaria, parla il magistrato che diede la caccia ai camorristi di terra di lavoro, quanta amarezza, ora la camorra è più forte, sono preoccupato per il futuro del nostro paese. Pagine relative al capoluogo Irpino e alla provincia. Pronto soccorso, rischio, contagio. Un'anziana trovata positiva non ha seguito il percorso protetto per i casi sospetti. Era stata dimessa con test negativo tre giorni prima del malore che l'ha portata in ospedale. Sulla fase 2 riapriranno pochi locali. Pizze consegnate a casa da questa sera si può. Pizze a domicilio in pochi accettano la sfida della ripresa. La gran parte dei titolari, anche di bar e pasticcerie, ha deciso di attendere ancora. Meglio rimettersi in moto a pieno regime. Il consigliere regionale Alaia avverte che bisogna consentire anche la consegna del cibo tra comuni vicini. Il runner basso si rimette. Le scarpette e le imprese sono la vera forza del paese. La nuova vita dei cantieri non ci si può più fermare. Dalla Leone Grottaminar, dal Terminal Air, grandi opere alla ricerca del tempo perduto. Il direttore dei lavori della tangenziale stiamo dando le indicazioni sulla sicurezza. Tensione ad Ariano sullo screening 2.0 fatto in ritardo. L'ex consigliere Luparella perplesso sulla novità dei casi secondari. L'ASL sono da contatto diretto. Ciasullo mantenere ancora i distanziamenti. L'ex assessore Gabbacorta resto preoccupata. Dimessa dal Moscati tre giorni dopo è positiva. L'ottantenne è tornata al pronto soccorso per un malore senza essere posta in isolamento. Era stata ricoverata per tre settimane in nefrologia dove era risultata negativa. L'Irpinia fa registrare zero contagi. Domenica soft con meno esami. Solo 100 tamponi analizzati ad Avellino. L'ASL annuncia un nuovo filone di test rapidi. Caldoro, non ho tagliato io la sanità. Irpina, l'ex governatore, eredità il piano del centro-sinistra che avrebbe indebolito anche Ariano e Sant'Angelo ma io non l'ho consentito. La gestione dell'emergenza in provincia non è stata esemplare. Ariano prima di essere chiusa andava rafforzata. Nei servizi. Pagine relative a Benevento. Fase 2, ripartenza al Ralenti. Oggi riaprono bar e attività di ristorazione ma solo per le consegne. Il cimitero resta chiuso. Al Vigi, poca attenzione da De Luca e i deputati sanniti. Romanos, Gravitosat, bene ma è poco. Fase 2, start al Ralenti. Il cimitero resta chiuso. Mastella rinvia a mercoledì l'apertura del Camposanto. Non ancora sanificate le aree gestite dalle confraternite. Oggi riaperture a tempo per bar e ristorazione. Consentite solo consegne a domicilio. Troppi costi. Subito flussi di liquidità per far ripartire le PMI. Pasquale Lampugnale, l'intervista. Il presidente della piccola industria. A marzo crollo dei fatturati del 39%. Servono aiuti tempestivi dalle banche. Il governo li garantisca per dare ossigeno. Covid-19, due guariti ma tornano i decessi. Al Sampio, morto 69enne di Sant'Angelo, era stato ricoverato nella clinica Focolaio. Volpe dell'ASL, la ripresa mi preoccupa. Sannio Tech nell'elenco della regione. Norme anti-Covid. SOS al governo, bilancio a rischio. Mastella, problema di tutti gli enti. Sguera, adesso intervenga lo Stato. Le parole di Lepore, nuove modalità per i servizi. Mollica, cabina di regia di Partizan. Progo in un capannone la pista dolosa. A San Salvatore ne fiamme la struttura in uso. Alla Vermo Farma si indaga sulla matrice. Gli inquirenti visionano i filmati. Distrutta un'ampia area dell'edificio adibita a magazzino. L'azienda era pronta a ripartire producendo gel disinfettante. Telecamere agli svincoli delle due grandi arterie. Parla il sindaco Fabio Romano. Pagine da Caserta. Ospedale modulare pronto. Ospiterà i pazienti Covid del Sant'Anna. Il rischio ora sono gli asintomatici. Ieri registrato un nuovo nuovo solo caso positivo. La curva epidemica continua a scendere. Pronto l'ospedale modulare ma il nodo sono i controlli. La normalizzazione degli afflussi in ospedale rende più insidiosa la presenza di asintomatici. Ieri registrato un nuovo solo caso positivo. Vertice in Regione per gli incentivi al personale. Covid-19 fondi ai comuni per il rientro in sicurezza. Il denaro del biminale servirà per pagare il lavoro straordinario degli agenti locali. Per Caserta stanziati 33 mila euro si riparte con la sanificazione degli uffici. Piloto da remoto e aiuto a sconfiggere il virus. Dronista Antonio Saiocca. L'epidemia e le storie. Poi assisto anziani ad Arezzo e penso a Emi e a Carino l'assistente sociale Marina Denunzio. Un party all'aperto la comitiva fugge via. Un gruppo di ragazzi fra i 17 e i 20 anni aveva organizzato anche una festa di 18 anni in un terreno della frazione talanico. A Maddaloni piante estirpate nella villetta Imposimato. Il comandante renga controlli più esigenti nella fase 2. Erbacce lite con la butta al spazio a una nuova ditta. L'igiene pubblica. Sì al consiglio via web dissidenti tirano il freno. Nessuna volta faccia. Golia ufficializzerà ad Aversa il nome del nuovo assessore e Cesario. Santulli e gli altri assicurano il sostegno non senza critiche. Pagine da Salerno. Mini ripresa tra le polemiche. Nel dettaglio dal capoluogo e dalla provincia. Via al delivery, ristoratori, costi eccessivi. Joking con la mascherina, il no dei runner. Edilizia riaprono 6.000 aziende nel Salernitano. Cantieri blindati ma Porta Ovest resta al palo. Edilizia, cantieri blindati con mascherine e controlli. Ripartono 6.000 aziende. Via libera dopo un mese di fermo ma con una completa riorganizzazione. Al palo Porta Ovest, incognita sui tempi. Piazza Libertà, prima la messa in sicurezza. SOS. Dai ristoratori riduciamo i coperti. Le spese aumentano. Il patrono di Cicirinella da 75 a 14 posti e ogni giorno 80 euro per la sanificazione. Domani in tanti al flash mob di protesta. L'embarcadero luci sulle nostre difficoltà. Ora, una svolta di qualità per la movida e il turismo. L'architetto Paolo Giannatasio. Spazi urbani da ridisegnare. Più severità nel rilasciare autorizzazioni. Il virus ci dice che dobbiamo cambiare modelli di vita e consumo del territorio. Giù i contagi. Il Ruggi vara la fase 2. Rinviata l'apertura dell'ospedale modulare prevista per oggi. Con il D'Aprocida consentirà di ripristinare le attività ordinarie. Crolla la curva del virus. Ieri su 414 tamponi. Un solo positivo. A metà maggio ripartono interventi dei hospital e ambulatori. Il racconto dell'emergenza. Il racconto del Vangelo per chi si rivolge a Dio. Insegnante in pensione. Tito di Domenico. Andiamo sul sito ottopagine.it per le ultime notizie. In Campania solo 18 positivi. Dato più basso dal 6 marzo per la Regione. Le chiese restano chiuse. Il disaccordo dei Vescovi che non accettano di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto. Da Napoli positivo a Covid fugge da ospedale di Milano. Fermato a Napoli. Pregiudicato risultato positivo. Si è dato alla fuga. Agenti Polfer lo fermano nel capoluogo partenopeo. Da 10 di Diego Maradona venduta a 55 mila euro. Andranno ai napoletani. Ai bisognosi con la fondazione Cannavaro Ferrara. Il commento del PIB ed è oro. Ci rovinciamo sempre. Continua il calo nel Salernitano. Un solo caso. Negli ultimi sette giorni 31 contagiati in tutta la provincia. Lungomare, strade pulite, Santa Teresa. Le idee per ripartire. D'Alessio, Gallo, Naddeo, Stasi e Ventura. In pressing sul sindaco Napoli per la fase 2. Da Avellino. 100 tamponi, 0 positivi. L'Irpinia che si prepara alla fase 2. Pronto, Dream Team di festa. Arriva anche Raul Caruso. È tutto per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Aldo Fenizia. Approfondimento alle 11.00. E soprattutto restate con noi. Restate sul 696. Regio dietro il Pietro. Di una insieme a Radio Salernitano. Puoi liberare! Corazzo www. OS pous shorte. Di una insieme a tutti. Contro Paolo Maglica! È обнаруж of unitas疯 Taco. Grazie a tutti